Chi abbandona un animale per strada causando un incidente sarà punito con le stesse pene previste per i reati di omicidio stradale e di lesioni personali gravi o gravissime e rischierà fino a sette anni di carcere. Toleranza zero contro chi si sbarazza del proprio quattro zampe, scaricandolo come se fosse un rifiuto di cui liberarsi. È stato infatti approvato in commissione alla Camera un emendamento voluto dalla Lega per il nuovo codice della strada in discussione in Parlamento che inasprisce le pene per chi abbandona un cane. Si andrà dal ritiro della patente fino alla condanna penale per chi, facendo scendere un animale su una strada o un'autostrada, causa un incidente con vittime o feriti. Sono molto soddisfatta per l'approvazione in commissione trasporti del mio emendamento che prevede la sospensione della patente per chi abbandona un animale. E se dall'abbandono si genera un incidente grave con morti e feriti, le conseguenze penali per questo delinquente saranno importanti. Rischierà il carcere per diversi anni e così mettiamo finalmente un deterrente importante ad un reato odioso. Tra il 2020 e il 2021 nel nostro paese il numero di cani abbandonati dai loro padroni era aumentato del 43%, un po' a causa della crisi economica, un po' perché, terminato il lockdown, il proprio cane non era più visto come un compagno insostituibile ma come un peso di cui sbarazzarsi. Nel 2022 il dato è sceso dell'1%, eppure la cifra è ancora vertiginosa. 71.004 zampe abbandonati nell'arco di un solo anno. 72.00